Buonasera a tutti e benvenuti al mio canale. Oggi vi porto in un viaggio nel magico mondo delle feste italiane imparando nuove parole e tradizioni con immagini e descrizioni natalizie in italiano. Natale è una festa molto speciale in Italia. È il momento in cui le famiglie si riuniscono per condividere amore, gioia e prilavatezze culinarie. Una delle delizie natalizie più amate in Italia è il panatone, un dolce lievitato ricco di frutta candida e uvetta, mentre il pandoro è un altro dolce natalizio tradizionalmente servito con una spoverata di zucchero a velo. L'albero di Natale è una parte fondamentale della decorazione natalizia. Le famiglie italiane lo addornano con luci scintalanti e ornamenti vario pinti. La notte di Natale i bambini italiani attendono con ansia la visita di Papa Natale, l'equivalente italiano di Santa Claus. i regali sono consegnati durante la notte e lasciati sotto l'albero. Un'altra tradizione importante è il presepe che rappresenta la natività. Le famiglie italiane creano presepi artiginali con cura, aggiungendo le figure di Maria, Giuseppe, Gesù e molti altri personaggi. Il cenone di Natale è una cena abbondante che si tiene nella vigilia di Natale. È un'occasione speciale per riunire parenti e amici intorno a tavole imbandite di cibo buono. A Capodanno le celebrazioni italiane sono entusiasmanti. La tradizione di lanciare petardi, chiamata fuochi di l'artificio, illumina il cielo notturno. Per concludere le festività, l'Epifania è una festa speciale in cui si celebra la visita dei re Magi al bambino Gesù e anche il giorno dell'Evifana, la strega che porta regali ai bambini. Allora, che il slideshow abbia inizio! Ciao! Ciao! Servici tutto sui. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie per essere stati con me in questo viaggio attraverso le festività italiane. Spero che abbiate imparato nuove parole e tradizioni. Auguriamo a tutti voi un Natale pieno di amore, gioia e serenità. Buone feste! Grazie a tutti.